Oggi con noi abbiamo Camilla Turina, presentati un po'. Sono Camilla, vengo da Gardone Riviera, sono una 2003 e gioco nell'Under 16, Nade 18 e Serie C della Probable. In quale ora lo fai? Banda. Banda? Sì. Attaccante ricettore? Sì. Ok. E com'è il rapporto tuo tra la ricettazione e l'attacco? Beh, è abbastanza buono, però c'è sempre da migliorare. All'abbastanza buono cosa intendi? Che più o meno riesco ad essere un po' presente in tutti e due, i fondamentali, anche se mi sento un po' meno sicura sulla ricezione. Ma parliamo del collegamento tra la ricezione e l'attacco. Eh, cioè, come? Il collegamento, cioè quindi, spiegami, cioè deve ricevere, ok, poi controattaccare. Collegamento? Rincorsa? Sì. Eh, rincorsa, apertura e devono concidere i passi con il palleggio in modo da avere il tempo giusto per l'alzata. Il tempo giusto che sarebbe? Eh, il sinistro sul palleggio, fare il secondo tempo. Il secondo tempo sulla palla in banda, la palla spinta. Ok, stiamo introducendo anche la super. Eh, cosa cambia tra la super e la spinta? Eh, la super è una palla molto più spinta e devo essere molto più veloce durante la rincorsa, quindi, eh, sempre io anticipo un po' di più il sinistro in modo da arrivare, cioè, di velocizzare il tutto e arrivare meglio sulla palla. In modo da sorprendere il muro dall'altra parte che, in teoria, dovrebbe essere in ritardo e quindi attacchiamo meglio. In ritardo in più di due centrale? Sì, esatto. Ok. Come ti trovi all'interno del gruppo squadra, gruppo allenamento? Perché in realtà noi non abbiamo una squadra ben definita, no? Cioè non è che la 16, Salena, ora 16, gioca con la 16, la 18, Salena qua 18, gioca qua 18. Abbiamo un gruppo di lavoro, ok, e in questo gruppo di lavoro, di cui tu fai parte, puoi fare tre campionati, anzi, quattro campionati, perché ci sono anche altre ragazze che fanno la prima divisione. Come ti trovi in questo? Che difficoltà trovi nel non trovare sempre solite ragazze, solite compagne a giocare? Beh, io comunque ho fatto amicista con tutte, mi trovo benissimo con tutte, però comunque sento un po' di differenza quando vado a giocare nella 16 perché gioco molto di meno con loro e mentre con quelle della 18 ci ho giocato anche l'anno scorso e è un po' più difficile perché avendo in parte persone diverse rispetto al solito non è, a volte non è che sono proprio sicurissima rispetto a quando ho in parte quelle solite. Ok, prendiamo un po' di te, cioè abiti a? Gardone Riviera. E quanto ci pieghi per arrivare in presso? Col pulmino un'ora e mezza. Un'ora e mezza da arrivare? Eh sì, un'ora a ritorno perché non c'è traffico la sera. Quindi tendenzialmente tu butti via tra virgolette due ore e mezza sulla strada per venire ad allenarti. Sì. E questa, quindi fai due ore e mezza, poi fai l'allenamento, poi fai la doccia, quindi in definitiva quanto tempo dedichi per la pallavolo? Da quando parti da casa a quando torni a casa? Beh, impiego tutto il poveriggio, cioè io sto a casa, arrivo da scuola verso l'una e mezza e alle quattro e mezza mi devo già preparare per andare e quindi prima, dopo pranzo studio, però comunque continuo a studiare anche sul pulmino, sia l'andata che ritorno, così da organizzarmi meglio per la scuola. Quindi tu che scuola fai a proposito? Liceo delle Centro Mane. E riesci a far conciliare la scuola con questi tempi della pallavolo? Sì, abbastanza, cioè utilizzo tutti i tempi morti che ho. Tra questi anche studiare sul pulmino? Sì. Bene, complimenti. Grazie.